E' tornata anche di attualità la figura di una persona che è un ruolo molto importante nei rapporti di cinematografia con Incio e qui in generale, usando le parole che poi ci sono anche sull'articolo, nella definizione completa del prodotto cinematografico del giusto e adesso meglio di me questa cosa ve la faccio bene grazie a questo spazio di film Ah sì, non si la prenda così al cuore? Accidenti, per te lo sei passata? Ah, è riva, sono proprio di te Ah, tu, io devo guardare il casto del padrino E' riferita a farci del tutto Quei due non potrebbero